Siamo con il dottor Stefano Liuzzi, candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega. Intanto conosciamo il candidato Stefano Liuzzi, chi è, cosa fa nella vita, perché ha deciso di candidarsi. 61 anni, medico, sposato, due figli, medico di medicina generale, sono anche pediatra. Perché ho deciso di candidarmi? Non è la mia prima esperienza come candidato in generale, sono stato anche consigliere provinciale per dieci anni, sono stato qui a Crispiano per un'altra decina di anni consigliere comunale, tre anni sono stato vice sindaco, quindi non è una novità la mia candidatura. E' la voglia adesso di dare un contributo al rilancio della provincia di Taranto, ma di tutta la regione. E questa occasione, questo rinato entusiasmo, dopo un paio di anni sabbatici, sono venuti dall'incontro con Matteo Salvini e con la Lega. Lei sta sempre nell'ambito del centro-destra di una volta, oggi ha ritrovato questo entusiasmo nella Lega. Sì, e devo dire la verità, innanzitutto, cominciamo col dire, è evidente, fa parte della dialettica elettorale, dire della Lega, ricordare vecchie frasi della Lega. Voglio dire che, innanzitutto, più volte lo stesso Andrea Crippa, che è il vice segretario federale della Lega, ha quasi chiesto scusa per come nel passato ci si è la Lega, alcuni esponenti della Lega si sono rivolti verso il mezzogiorno. Ma poi voglio ricordare anche così, è un inciso, nel 96, adesso si fanno tutti i buri, ma nel 96 lo stesso D'Alema, quando Bossi fece cadere il primo governo Berlusconi, entusiasticamente disse La Lega è una costola del centro-sinistra, quindi allora andava bene la Lega, poi non è andata più bene. A parte questo, io ero stato fermo perché non ritrovavo più negli ultimi partiti, anche di centro-destra, quell'entusiasmo, quella militanza a cui ero stato abituato, con cui sono cresciuto. Entusiasmo e militanza che ho ritrovato nella Lega. Nella Lega da due anni siamo in attività, da un anno e mezzo abbiamo fatto quasi ogni mese un gazebo, raccolte di firme, volantinaggi, abbiamo riscoperto quel modo di fare politica tra la gente. Questa è una cosa che mi ha colpito e quindi ho deciso di reimpegnarmi, anche perché poi la Lega è diventata ormai un partito nazionale, un partito che ha gente del territorio in cui si presenta. Allora voglio capire, noi nella Lega di Taranto, siamo tutti professionisti orgogliosamente meridionali, voglio capire perché non potremmo fare gli interessi di Taranto, del sud e della Puglia.